Ciao a tutti, sono Filippo Cova, lavoro a cambiavalute.ch e in questo breve video vi spiegherò come funziona il servizio. Quali sono le modalità di cambio? A cambiavalute.ch accettiamo solo bonifici bancari, quindi per poter usare il nostro servizio devi essere titolare di due conti bancari, uno in euro ed uno in franchi, ad esempio. È importante che siano entrambi intestati a te. Tieni presente che se utilizzi conti cointestati, un conto bancario intestato a te, a tua moglie, ad esempio, puoi usare il servizio, non ci sono limitazioni. Ricorda solo che dovrai essere uno dei due cointestatari. Quanto tempo è necessario per un'operazione di cambio? A cambiavalute.ch ci teniamo ad essere molto veloci. Normalmente le nostre operazioni di cambio vengono concluse il giorno stesso rispetto a quando riceviamo il denaro da cambiare da parte del cliente. Come limite massimo però informiamo il cliente che l'operazione può regolarsi in due giorni lavorativi. Questo perché? Perché l'accredito del denaro cambiato dipende soprattutto dalla banca ricevente. Quindi se questa banca avesse dei periodi di regolamento particolari potrebbe succedere che, ad esempio, noi cambiamo il denaro e te lo inviamo di lunedì ma tu non potrai vederlo disponibile sul tuo conto prima di martedì. Si può inviare denaro a terzi? No, purtroppo no. Con cambiavalute.ch non eseguiamo pagamenti verso terzi. Un esempio, non possiamo pagare l'acquisto di un'automobile per tuo conto. La persona da cui riceviamo il denaro da cambiare deve essere la stessa, deve essere uguale a quella a cui inviamo il denaro cambiato. Ci sono costi, commissioni, spese nascoste? No, con cambiavalute.ch non sei soggetto né a costi né a commissioni né a spese nascoste. È tutto a carico nostro. Tieni presente però che è importante verificare con il proprio consulente bancario o nel contratto di conto corrente che si è firmato se sono presenti, se la banca prevede, delle commissioni per l'esecuzione o la recezione di bonifici. Ricorda inoltre che per quanto riguarda i pagamenti in franchi svizzeri eseguiamo solo pagamenti nazionali e ti consigliamo di eseguire pagamenti nazionali che sono gratuiti. Per quanto riguarda i pagamenti in euro utilizziamo i sepa che 9 volte su 10 sono gratuiti. Che tipo di pagamento dovrò impartire la mia banca? Che tipo di pagamento riceverò? Molto semplice. Ad esempio per un'operazione di cambio da franchi a euro alla tua banca dovrai impartire un pagamento nazionale in franchi. Noi invece eseguiremo a tuo favore un pagamento sepa. Per un'operazione di cambio da euro a franchi dovrai impartire alla tua banca un pagamento sepa. Noi invece istruiremo un pagamento nazionale in franchi verso il tuo conto. Hai altre domande? Hai altri dubbi? Qualcosa non ti è chiaro? Non farti remore. Chiamaci, scrivici via mail, contattaci via whatsapp. Ricorda che se sei già cliente di cambia valute puoi invitare un amico ad usare il nostro servizio. Una volta che questa persona avrà cambiato con noi entrambi riceverete 25 euro. Per poter usare la promozione invita un amico è sufficiente utilizzare il tasto invita un amico presente nella tua area riservata.